Lo sport in collaborazione con Pegaso annuncia 40 giorni di offerte finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30% Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita Ogni anno la giuria del Raduno Madonina dei Centauri Stila un'aggredatoria di stranieri che hanno partecipato al Raduno Si tratta di centauri provenienti dall'Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Francia, Svizzera e Normandia Svizzera tedesca, Spagna e Stati Uniti Il primo luogo è la Norvegia che ha nuovamente spadroneggiato tra gli stranieri conquistando il primo posto della classifica del motoclub con il motoclub Moss con 6 presenze e un totale di 13.200 km percorsi seguito dal motoclub Madrid-Spagna ha sempre 6 presenze e 9.600 km ed infine il motoclub L'Emole di Belgio con 33 partecipanti e 9.450 km percorsi La Norvegia ha anche conquistato i primi tre posti della classifica degli stranieri isolati Il norvegese proveniente da Nesna ha percorso 3.000 km ovviamente di zona andata e nella classifica dei motoclub italiani si è piazzato al primo posto il motoclub Polizia di Stato seguito da Tiguglio Motoclub entrambi della Liguria mentre al terzo posto si è classificato il motoclub di Ponta Serchio in Toscana Tra le sezioni estere al primo posto si è classificato la Svizzera con 67 partecipanti seguita dal Belgio con 38, la Francia con 11 e la Spagna con 6 Nella categoria dei premi speciali il premio folclore è stato assegnato al Vespa Club Alessandria mentre quello per la disciplina è stato conquistato da Monferrato Charter Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita Il meteo in collaborazione con Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche Senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50% Punto Fuoco Le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03 Parco acquatico Lavagello Vi aspettiamo a Castelletto d'Orba dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18.30 e la domenica dalle 9.30 alle 18.30 Per informazioni 0143 830691 Per informazioni 0143 830691